Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, come state? Spero tutto bene! Qua siamo, non in diretta, ma praticamente è da stamattina che siamo qua a registrare perché oggi è il compleanno della mia best friend però ne abbiamo approfittato per aprire un po' di cose quindi partiamo subito dal video, dal calendario dell'avvento perché, allora, premessa, andate a vedere il video, non vi spoileriamo nulla però comunque abbiamo fatto un calendario dell'avvento io gliel'ho portato oggi, lei l'ha aperto e quindi, niente, andate a vedere il video perché sarà molto molto... Allora, praticamente stiamo registrando io con il mio telefono, lei col suo perché lei intelligentemente, il tuo calendario dell'avvento, ha fatto il video mentre lo preparava io per il suo non ho fatto niente, quindi mi tocca mettere questo quindi stiamo registrando in contemporanea e ora le do il calendario cioè non è un calendario, perché sono poche cose però sono, diciamo, i suoi regalini di Natale Iniziamo! Già non mi ricordo dove ho messo niente, l'ho messo un secondo fa, eh? Vabbè, io che... veramente che... dove è il 1? dove è il 2? Vabbè, non so che cosa sia, ma iniziamo con questo Da notare che... cioè, non vi scuolerò niente, ma queste sono le scatole con le mie scritte, voglio dire Chi ha visto quel video sa... Che cos'è questa cosa? Io lo volevo comprare! Scusa! Ce l'ho sia bianco che marrone Però questo qua dà una lucentezza molto carina E quindi... certo! E quindi glielo volevo far provare Che bello! Fa un po' malino quando se lo metti sull'occhio, almeno il mio Perché comunque è ruvida la pietra, però deve essere dei brillantini molto carini Ah, tipo top coat! Sì, esatto! It's mine! Mettiamo con un'altra cosa piccolina Ok Più lenta, perché se no dura poco, che sono poche cose Scusa! Scherzo, ragazzi! Allora, questo è un lipstick, chissero, non so che cosa Allora, praticamente io ce l'ho e lo amo Ho la scorta di questi E nella mia scorta volevo farglielo provare a lei Praticamente è descritto come rossetto Ma in realtà è un lip balm con il 99% di aloe vera Però praticamente è un rossetto perché tinge le labbra Tu lo apri, è verde Però con il pH diventa praticamente rosa E dopo che si asciuga, lascia le labbra tinte Non lo sposti neanche con niente Me lo apri? Eh In tutto questo non riesco ad aprirlo io Ve lo farei anche vedere, ma non riesco ad aprirlo Eh, devo prendere qualcosa Non avevi detto che sarebbe stato difficile aprirli? Che cazzo ne so Che questo poi non toglie niente Taglierò questo Io lo taglio e poi da lei vedete tutte le mie Cavolate Metti pausa perché vado a prendere qualcosa Ce l'abbiamo fatta, ce l'ha fatta E questo è il pack Ve lo faccio vedere senza questa cosa Ok Fatto così Aiuto, non si vede niente Vabbè comunque fatto così è verde Come dicevo concette Però io lo metto qua Ma sai che questo l'ho sempre voluto Ma non l'ho mai comprato Sì, ma il fatto è che questo qua non si sposta Dopo una volta che si asciuga Ti restano le tinte e le labbra tinte Fino praticamente al giorno dopo Ottimo Questo è approved Tutti approved Che cavolo c'è qua? Non lo so Se non lo sei tu Ah ok Giusto perché ho visto che lei stava utilizzando gli eyeliner Scusate Questo qua è un colorino un po' blu raga Ma non si vede niente Sì, anche perché lei li mette anche sotto Ho detto può essere utile No, che bello Questo è di Scusate ma non vi dico nemmeno di che cos'è Io non ho tirato Ma come posso togliere queste scatole che non mi servono qui? Non so, le tue Mi darei una busta Che cos'è? Non lo so Ok Allora, scusa No, io devo spiegare questa cosa Eyeshadow primer No, allora Ti devo spiegare Ah, stavo dicendo che questo Allora, io volevo prendere un eyeshadow primer Non l'ho preso Però lo volevo prendere Quindi apriamo sta cosa Allora, praticamente mi è arrivato a me L'ho preso doppio E mi è arrivato l'altro giorno per fortuna E praticamente è tipo la P. Louise Però la versione più poraccia Perché la P. Louise costa sulle 20-30 euro Ed è bianco Praticamente è bianco L'ho usato anche per fare questo trucco Ma ce ne vuole praticamente Un proprio Sei quanto? Infatti adesso Per far risaltare proprio l'ombretto Fantastico Bello Sì, perché poi alla fine è bianco Ma c'è per opagizzare C'è per uniformare la P. Bellissimo Io lo volevo prendere C'era anche beige Però ho detto io Se fai una cut crease Una cosa C'è bianco È meglio Adoro comunque Adoro Io lo volevo prendere questo Vabbè cambiamo un po' il prodotto È l'acido ialloronico Che sono malata Vabbè ma è stupenda Ma quanto è bella Cioè a parte che Ce l'ho uguale Ovviamente L'amo Quando prendo qualcosa in questi periodi Li prendo doppi Però se non ce l'ho mai sigillata Non l'apriamo perché ancora ho Ma cosa da provare Stiamo al terz'ultimo Glitter primer Uh la la Non avevo un glitter primer ragazzi Ce l'ho uguale Lo dico E si nota la differenza Non solo mettendolo sui glitter Praticamente anche prima dello shimmer Tu ti metti una puntina di questa Davvero? Non si sposta più Ed avviene proprio più brillante Sempre lo sai quanto? Pochissimo Praticamente Questo qua l'ho preso su Amazon Ed è Ha il pecco uguale a quello di NYX Sì Però Quello di NYX Costa sulle Dieci euro Questo praticamente costa la metà Tanto non l'abbiamo segreti Ah è molto appiccico Sì Ed è praticamente validissimo Perché io ho provato anche quello di NYX Ed è uguale Cioè questo lo metti Poi posso mettere gli shimmer sopra Esatto Bellissimo Pure che ci va un po' sopra l'opaco Non succede niente Raga bellissimo Bellissimo Adowa Allora penultimo prodotto Prego Ma perché io tutte le cose che volevo prendere Secondo me lei mi ha letto nel pensiero Io ho un problema raga Ve lo giuro Allora Ce l'ho anch'io No aspetta Diciamo le cose come stanno nella mia testa Le devo raccontare Allora Io Sono andata Vabbè loro me l'hanno visto Saregicamente Io sono andata Questo qua Tempo di Amazon Che volevo Una tinta labbra Perché la volevo Ora No non si tira No non si tira Si svitava La rotta Allora Cioè Tu pensa che questo nude Io amo la follia No aspetta Si sta litigando per fare una swatch Ma Allora Io volevo questa Tinta labbra Quello Dura tantissimo Ci ho anche mangiato Quindi Fantastico Allora aspetta Faccio così Per chiudere Ha sdoganato il pezzo Non so come gli è venuto Di tirare Comunque È bellissimo Questo colore Fantastico Adoro Allora Qui C'è l'ultimo prodotto Che a me Mi è arrivata direttamente Con il Pruriball Io ho tolto il Pruriball Per vedere che non si è rotto Quindi ora Non glielo ho rimesso Perché ovviamente Non contavo di tarli lì oggi Che è il mio compleanno Però Mancano dieci giorni a Natale Se poi non riusciamo a vederci Tra una cosa e un'altra Anche se mi manca una cosa Che mi deve arrivare Poi gliela darò E non Non avevo impacchettato niente Infatti io ho rubato Le sue scatoline Ho messo le mie cose Quindi Gliela do così Ci sta Ci sta Chiudiamo gli occhi Perché Si vede Cos'è Non vede niente Non vede Dal Dal tocco Si vede cos'è Non puoi ridare No Spero che i colori Dovrebbero piacerle Scusa Ragazzi Devo respirare Questo è Day to day Temperevolo evolution Ragazzi Penso che siano i suoi C'è un po' di verdino Io volevo prendere una palette E ragazzi No 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 Togliamo questa cosa Vai togli Aiuto Vai togli Io l'ho aperta Perché non si sa mai che Ci siano cose rotte Devo togliere queste cose Perché se no Guardate ragazzi Perché lei sclera Non vi fa vedere niente No io Fall in love Perché ho visto Questo è il verdino Che a lei piace un sacco Poi nude Comunque li usa Questo qua È carino No no Io A parte che Uso tutto E dire semplice No Perché poi no Cioè A parte che io Io dico Non lo so perché mi sto stupendo Però ogni anno è così Cioè io volevo prendere una palette Solo per questo giallo Ve lo giuro Su quello che volete Io non lo sarei mai nella vita ragazzi Io l'ho usato l'altro giorno Cioè Guardate No aspetta Io li devo Posso sbocciarli? È tua Allora Mi chiede anche il permesso Cioè la metto sulla P-Louise Che non è P-Louise Scusa Anche Guarda che giallo lo fluo Oddio No Io amo tantissimo Vabbè che sul bianco è normale Che si veda così Vabbè No però è già Guardate qua Guardate ragazzi Cioè ma che bello Questo colore Devo provare un altro Cioè Proviamo qualche Prova qualche Scimilino Questo è il viola Mamma mia Questo è bellissimo È un prugna Aspetta che lo provo qua Carino Proviamo gli shimmer Che sono tre E facciamo uno Quanto sono burrosi Io l'altro giorno Ho preso una palette Con questo verde ragazzi Ve lo giuro Con questo verde qui Non sto scherzando È solo per il verde L'avevo preso Vabbè infatti Allora Appena vedo un po' di verde Dico È la sua Scusate Posso grigare Che verde di Io lo uso Questo verde Guardate che bello Appoggiatevi sul verde Qualcuno mi appoggi sul verde Ragazzi Guarda che belli La vita è solo viola La vita è solo Non viola per me Però il viola mi piace Però non è solo viola Ragazzi questa palette è fantastica Poi io amo questa linea Che ha revolution Perché c'è una qualità Aspetta no Voglio sbocciare questo verde Scusate Questo verde qua Tipo militare Belli Posso dire Che mi sono innamorata Sono piccole cose Però No Allora Diciamo che Che le potevano piacere No Non è solo che mi potevano piacere Che mi potevano servire Perché io stavo Cioè tipo queste due Io le stavo andando a prendere Meno male Poi Cioè queste cose io amo A parte che L'eyeliner Se vedevi quello che doveva arrivare Eh vabbè Vedremo Se non si è perso per strada Lo vedrà No raga Io amo Cioè io ancora sto guardando questo verde A postire Cioè E a parte che Manco sapato Dall'esistenza di questa palette Comunque La sto spaccando Sì Vedi che c'è La Sophie X Questa è una Di quelle collezioni Praticamente Oddio Eh infatti io quella Vabbè ho l'altra Sì Anch'io ce l'ho Ma che bene Va bene Non so quanto Quando vedrete questo video Ma sicuramente Lo vedrete Per Natale Quindi vi auguro Buone feste a tutti Vi auguriamo ovviamente Buone feste Io proprio E al prossimo video Ciao